Ciao a tutti, come far tornare il tuo ex con la legge d'attrazione? In questo video ti voglio spiegare come far tornare il tuo ex utilizzando la legge d'attrazione. Allora, è molto importante imparare a capire come far tornare l'ex usando la legge d'attrazione, perché in questo modo tu riesci a, per così dire, ottenere dei risultati senza neanche fare degli sforzi coscienti. Prima però iscriviti al canale attivando la camponella così ricevi le notifiche dei nuovi video e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. In più, se hai bisogno di risposte precise alle tue domande, puoi tranquillamente, ad una cifra simbolica, abbonarti al canale e in live mirati ti darò risposte precise alle tue domande. Bene, vediamo quindi come far tornare il tuo ex con la legge d'attrazione. Allora, bisogna tenere presente alcune cose fondamentali. Che la legge d'attrazione è una legge di risonanza. Risonanza cosa vuol dire? Che tu entri in risonanza con delle frequenze. E queste frequenze tendono a realizzarsi. Perché noi è come se mandassimo un segnale all'universo, un segnale al mondo, di quelle che sono le nostre... E' come se mandassimo un segnale al mondo di quelle che sono le nostre energie, le nostre intenzioni, le nostre emozioni. Le emozioni attirano. E allora dobbiamo tornare alla legge d'attrazione. Quindi, se tu hai paura che il tuo ex non torni, se tu temi che il tuo ex possa non tornare, se tu sei ossessionata dall'idea, o ossessionato dall'idea che il tuo ex debba tornare, bene sappi che l'ex non tornerà. Non tornerà proprio per questo motivo. Perché tu sei ossessionato, o ossessionata, dall'idea di farlo tornare. E allora devi imparare a gestire la situazione in modo diverso. Devi imparare a sviluppare proprio il distacco dal risultato. E questo, intanto, devi farlo attraverso un no contact mirato. Un no contact che possa essere veramente un no contact importante. Questo devi tenerlo assolutamente presente. Cosa vuol dire un no contact importante? Vuol dire che devi assolutamente, assolutamente smettere di avere paura che il tuo ex torni e smettere di cercare con trepidazione di controllare cosa fa il tuo ex. Quindi devi prima effettuare uno sgancio mentale. Quindi devi prima effettuare uno stacco mentale. Nel momento in cui tu riesci a effettuare uno sgancio mentale, nel momento in cui tu riesci a effettuare uno stacco mentale, tu hai ottenuto un risultato molto importante. Hai ottenuto il risultato di esserti distaccato, diciamo così, automaticamente dal tuo ex. e questo distacco, se lo senti veramente dentro, verrà percepito dal tuo ex. Quindi tu non avrai più paura e potrai agire mettendo in atto, diciamo così, la legge dell'attrazione senza nessun pericolo. Senza nessuna, come dire, nessun pericolo di ottenere l'effetto contrario. Quindi la legge dell'attrazione funzionerà nel modo giusto. quindi primo punto non avere assolutamente paura, quindi avere tranquillità e agire con tranquillità. Questo è il primo punto fondamentale. Secondo punto, effettuare un no contact mirato, deciso e inequivocabile. Terzo punto, sviluppare autostima. Sviluppare autostima puoi farlo ad esempio ripetendo dentro di te il mantra io mi amo e mi accetto così come sono, io sono la persona più importante del mondo. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Ecco, questo è un mantra che devi ripetere dentro di te per accrescere l'autostima, per far aumentare l'autostima. questo è un mantra molto importante che ti permette di ottenere dei risultati, ti permette di ottenere dei risultati enormemente positivi. Questo è fondamentale nella tua vita se tu riuscirai a fare questo e riuscirai a ottenere dei risultati molto interessanti perché andrai piano piano ad aumentare la tua autostima, andrai piano piano ad accrescere la tua autostima, andrai piano piano a immettere dentro di te dei pensieri che vanno contro a quelli che sono i pensieri di disistima, che sono il pensiero di incapacità, di essere incapace a fare qualcosa, a conquistare, il pensiero di impedimento, di non riuscire a superare gli ostacoli per riconquistare il tuo ex e il pensiero di sfortuna, ritenersi sfortunati. Ecco, quindi che in questo modo tu riuscirai a, diciamo, a sviluppare un'attitudine di attrazione. Altro punto fondamentale, quindi, è l'attesa, cioè emettere verso l'universo l'intenzione di dominio, l'intenzione di forza, l'intenzione di potenza, l'intenzione di volontà di riconquistare, ma volontà di riconquistare non come bisognoso, volontà di conquistare come potenza, volontà di conquistare come forza, volontà di conquistare come, tra virgolette, atto magico, l'ex, di riconquistare l'ex, di far tornare l'ex con la coda tra le gambe, emesso verso l'universo come volontà di potenza. Poi, una volta che tu hai fatto questo, devi semplicemente attendere. Non devi fare nient'altro, nient'altro che attendere. E nell'attesa per, diciamo, sviluppare anche quella che viene chiamata la teoria dell'abbondanza, vai con altri. Perché se tu vai con altri, come dire, se c'è, c'è, se non c'è, non c'è, per legge dell'abbondanza, manderai all'universo il segnale che questo veramente non è importante per te e arriverà come un cagnolino con la coda in mezzo alle gambe. Ecco, facendo questi passaggi andrai proprio ad attivare nel modo giusto la legge dell'attrazione per far ritornare l'ex. Lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco e se vorrai delle risposte precise alle tue domande puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale ha una cifra simbolica e riceverai delle risposte in diretta alle tue domande. Ciao a tutti!